Buona finanza che serve alla crescita, allo sviluppo, però deve essere anche un'opportunità per cambiare l'azienda, per renderle più moderne, per farle evolvere in processi di sistemi di governance. Per me la finanza è uno degli ingredienti fondamentali per un'azienda per crescere e competere nel contesto globale di oggi. Nella mia vita professionale intercetto tantissime aziende che sono assolutamente competitive e globali, quindi riescono a competere con le aziende tedesche, giapponesi, coreani e tutto il mondo. Il sistema paese deve cambiare, il deficit di produttività è più forse legato al sistema paese che ha le aziende italiane che nel loro piccolo, nelle loro nicchie, devono essere sostenute al sistema paese che deve aiutarle con un'efficienza complessiva.